Sono stati portati via dalle stalle. Alla mensa scolastica si cucina solo cibo prodotto dai genitori degli alunni. Nel Salernitano, l'esempio di un istituto tra le migliori realtà contro lo spreco alimentare. Ce ne parla Giorgia Cardinaletti. Ho messo le patate tagliate a cubetti e poi ho allungato un poco di sugo. Per i bimbi della scuola di Caggiano, nel Salernitano, oggi cavatelli con patate. Ricetta semplice con ingredienti rigorosamente del territorio. A metro zero sono i genitori degli alunni a portare i prodotti dell'orto. Queste sono le olive di Pasquale, uno dei papà. Il raccolto di una settimana viene affidato al frantoio di zona per la molitura. Risultato? Ecco le bottiglie d'olio destinate alla mensa. Lasciamo due litri d'olio per ogni figlio. Con lo stesso principio noi altri genitori conferiscono i prodotti della terra, quindi patate, cece e fagioli. E ancora pomodori e farina per pane e pasta. Così i prodotti di casa, controllati ed etichettati, arrivano a scuola. I ragazzi chiedono sempre il bis dei piatti. E poi soprattutto le mamme sono contente perché arrivano a casa sazi. Caggiano è tra le migliori realtà in Italia per la campagna contro lo spreco alimentare del Ministero dell'Ambiente. Testimonia le neri Marco Re. Vivere a spreco zero probabilmente è un'utopia, nel senso che arrivare proprio a zero è molto complicato. Però si possono ridurre gli sprechi con maggiore attenzione. Chiunque può fare nel suo piccolo qualcosa. A mensa Anna cucina solo ciò che i bimbi mangiano e loro mangiano tutto. Indagini e immagini affascinanti.